Questo esercizio si chiama Russian Twist, lo potete fare con un peso o senza peso. Scendiamo giù a metà strada e cominciamo a girare il busto, avanti e indietro, ok? Desta e sinistra. Io spesso lo faccio questo con Thunderbell, ok? Posso garantire anche senza Thunderbell funziona la grande, ok? Abdominali tesi, sempre tirando dentro l'ombelico più che possibile, ok? Facciamo questo bel Abdominali Challenge, me l'avete chiesto, a me piace esaudire le vostre richieste, ok? Ci mancano ancora 35 secondi ragazzi, continuiamo, destra e sinistra, bella torsione, Abdominali tesi, immaginate che state proprio massaggiando organi interni, continuate, vai vai vai, Abdominali tesi, ci mancano 15 secondi adesso, 15 secondi, vai vai vai, ultimi, ultimi, ultimi e 5, 4, 3, 2 e 1, passiamo al prossimo esercizio, bravo. Adesso facciamo un lavoro dove sono 8 gambe, 8 spalle, 4, 4, 2, 2 a scendere, ok? Così, sollevo i fianchi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e le spalle, vado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, fianchi facciamo, 4, 3, 2, 4 spalle, 4, 3, 2 e 2 glutei, 2 spalle, 2, 2, 1, 2, andiamo in singolo, fianchi, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, torniamo su 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, spalle, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, spalle, and 8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1, spalle, 2, fianchi, 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 2, 1, spalle, 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 0, 5, 6, 7, 8, eccellente, passiamo sul prossimo esercizio, altra variazione sulle planche, adesso facciamo con le braccia tese, di nuovo un minuto, questo punto, quello che dovete provare di fare è prendere un bel appoggio tra la terra, tra le mani e i piedi, sollevo e porto la gamba destra in avanti, portate le gambe destra in avanti, proprio tira dentro l'abdome con tutti voi stesse, ok? E faremo 30 secondi per gamba, ok? 30 secondi per gamba, ci manca ancora 5 e 4 e 3, 2 e cambia la gamba, vai, in avanti, sollevo, tira su, come se stessi provando di portare il genocchio fino al petto, addominali tesi, sorridete perché state questo è un bel lavoro, trattieni la posizione, ci mancano ancora 10 secondi, vai, 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 10 secondi, ci mancano 5 secondi, solleva, trattieni l'abdome, tieni la posizione, ok? Ok? Appoggia e passiamo al prossimo esercizio, eccellente! Amo anche i classici abdominali, non soltanto quelli poi strampalati, nuovi, diversi, complicati, allora scendiamo giù, ok? Portiamo le spalle dietro la testa, non incrociate proprio le dita, ma chiudi uno sopra l'altro, dietro la nuca e sollevi le spalle, ok? Proprio spalle su, un classico upward crunch, ok? Un half crunch delle spalle, ok? Solleva per i bassi abdominali, allora, quando state lavorando in questa posizione, provate ad immaginare un canovaccio, proprio un canovaccio che lo stai stropicciando, ok? Rotolando e questo ti passa a salire. Oh, c'è il sole di Fuerte che ce l'ho negli occhi, ma meravigliosa, pensa che è novembre e so così a Fuerteventura, a novembre, meraviglioso, un sole che spacca le pietre, veramente meraviglioso. Continuiamo, facciamo otto e sette, sei, cinque, quattro, tre, due, continuate, otto, sette, provate di staccare ogni volta proprio le scapole da terra, delle spalle almeno, ok? Ok? Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ultimo otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, and relax. Passiamo al prossimo esercizio.